Tocca ora agli atleti della categoria G2, sferrare la prima pedalata della loro gara. È un portacolori della Mazzano che sin dalle prime battute prova a tenere alto il ritmo di gara, per cercare di fare subito selezione. Il gruppo si presenta ancora compatto e nella volata finale la spunta Balestra Lorenzo della Mazzano, davanti a Epis Giosuè della Springedi, Norbis Nicolas della Capriolo, Vedovello Luca della Matatim ed Amore Lorenzo della Soprazzocco. Premiata anche l'unica femminuccia in gara quest'oggi, Regali Gaia della Cadeo. Zop! Le mani! Zop! Le mani!